Allora la prima gravidanza è cominciata dopo che avevo avuto un aborto spontaneo e quindi c'è stato un po di paura subito perché dopo appunto un aborto si teme sempre che le cose ancora possono non funzionare e quindi abbiamo anche aspettato un po comunicarlo a parenti e amici perché appunto volevamo essere rassicurati che tutto procedeva bene. Un episodio particolare ecco che mi ha fatto stare male è stato quando alla sedicesima settimana ho svolto il test dell'alfa fetoproteina e questo test è stato appunto mandato all'istituto genetico di Padova dove dopo una settimana ci hanno dato il risponso che diceva che c'erano alte probabilità di malattie cromosomiche. Il che è stato appunto una doccia fredda e ci siamo molto preoccupati e mi avevamo molta paura e insieme appunto a mio marito abbiamo pregato molto perché non ci fosse niente di particolare. Il mio ginecologo mi ha suggerito anche di fare se volevamo essere così sicuri l'amniocentesi ma io non ho voluto in quanto comunque non io e mio marito non siamo favorevoli all'aborto e la data presunta era il 24 gennaio 95 però sono passate due settimane e non succedeva niente e quindi sono stata ricoverata e hanno iniziato a stimolarmi con l'ossitocina ma ancora dopo tre giorni non succedeva niente e quindi il quarto giorno hanno deciso di rompere il sacco delle acque e di fare una flebo di ossitocina e questo ha fatto partire col parto fino a un certo punto perché poi si è bloccato di nuovo e nonostante avessi contrazioni anche molto dolorose il parto non si apriva e poi dopo una mezz'oretta cominciate le spinte insomma è nata sta bambina che per fortuna era sana e questa è stata appunto la gioia più grande e successivamente ci è arrivato appunto da parte di questo istituto di genetica anche la richiesta di fare sapere come erano andate le cose e noi non abbiamo risposto perché abbiamo vissuto la cosa molto male cioè loro ci hanno dato solo dei dati e non ci hanno preparato o non ci hanno rassicurato in nessun modo e quindi noi non abbiamo deciso di non dare a loro nessun dato in quanto erano abbiamo ritenuto che per loro era solo un'indagine statistica e non voleva invece andare incontro alle necessità ecco delle nasciture neanche dei genitori e quindi